Milano, Sanremo, Sproet e Brugier fanno l'andatura sul poggio per favorire l'attacco di Merckx. Stiamo per assistere ad una vittoria del cannibale, anche questa stagione parte nel suo nome. Ed ora l'arrivo di Merckx nella classica Ligure, per noi una lezione di fiammingo. In Milano, Sanremo, è venuto da Poggio, è completamente per l'attacco di Merckx. Sì, guarda, non c'è nulla di discussione, anche questo anno, Eddi Merckx è molto sterk, va in un giro per l'arrivo di Milano, Sanremo.